Allora, raccontami un po' come è andata questa mostra. Questa mostra ha avuto un grande riscontro. Diciamo che ho dato un po' gli animi delle persone, li ho scossi un po'. Diciamo che molte persone, la curiosità che si volevano vedere sui palchi, conoscevano parenti, nonni, zii. Comunque diciamo che le persone che hanno visitato questa mostra si cercavano e quindi diciamo che ha avuto un grande riscontro su questo e poi il modo in cui è stata organizzata. L'ospite importante oggi è Fernando De Napoli, per cui chi non conosce Fernando De Napoli che è stato un grande calciatore sia per Avellino, sia per Avellino Calcio, sia Napoli e sia la nazionale, quindi i mondiali. Per noi è qualcosa di orgoglio avere un cittadino della nostra provincia, a parte che siamo italiani, ma soprattutto avere una persona del luogo che ha fatto queste scalate così importanti che vuol dire che è una persona che ha una validità forte e ha dimostrato la personalità che è. Quanti ricordi ci sono Fernando in queste foto? Beh, sono foto bellissime, sono ricordi bellissimi, anche perché ho fatto tre anni in Serie A con Avellino, alla mia città, e giocare in Serie A e poi ci siamo sempre salvati, per noi veramente vincere lo scudetto. Poi è normale, lo stadio era sempre pieno, nella Serie A ci seguivano dappertutto i tifosi di Avellino e devo dirlo anche oggi, perché stando anche in Serie C però sono sempre vicino alla squadra, i tifosi e questo fa piacere. Speriamo che fra qualche anno l'Avellino salga almeno minimo in Serie B, perché veramente merita, non merita la Serie C l'Avellino. La società sta facendo di tutto per fare salire questa squadra, speriamo bene. Senti, il tuo ricordo più emozionante, una partita che ti ha emozionato tantissimo? La prima partita mondiale in Messico con la maglietta dell'Avellino. Giocavo ancora nell'Avellino, poi passai a Napoli, però ero ancora dell'Avellino. E questo per me... Il ricordo più bello che è? No, il ricordo più bello, poi a Napoli siamo in pochi che hanno vinto degli scudetti, perché lo dico sempre, siamo in quattro che abbiamo vinto due scudetti o in cinque. Io sono uno di quelli, scelsi Napoli anche per stare vicino a casa, devo dire la verità, mi voleva la Juventus, il Milan già allora. Scelsi Napoli, ma non perché c'era Maradona assolutamente, solo perché, ripeto, volevo stare vicino a casa. Poi ho incontrato Maradona, che tutti lo sappiamo che giocatore è, però all'Odi fu bravo e anche per Paolo Marino fece una squadra intorno a lui e vincemmo due scudetti, ecco, perché i primi due anni di Maradona non ci scordiamo, non è che fece grandi cose col Napoli. Poi fece una squadra importante intorno a lui e vincemmo. Anche la Coppa UE. Anche la Coppa UE, sì, sì. Senti, abbiamo beccato la prima di campionato del Pescara. Ah, bellissima, non lo sapevo. Caspita il Pescara, bella subito tosta, bello, bello, bello. Meglio, bello, vediamo che pasta siamo fatti, così si vede subito che pasta siamo fatti. Grazie a tutti.